Iena presenta La Lazio, spiegata ai laziali Yeah! Nati prima! Forse i lazialotti regionali non sanno che una foto al Colosseo non basta per rappresentare Roma. Al posto di questi trucchi per sistemare gli errori del passato, sarebbe più credibile una solida rappresentanza romana in squadra. E che magari il lazialotto smettesse di odiare tutto ciò che rappresenta Roma. O di scandalizzarsi di fronte a giocatori fieri della propria romanità. Tanto più che su sponda giallorossa il legame con la città è perfetto. Ma se non bastasse, ecco tre cuori romanisti a rappresentare Roma. Di cui uno ha polverizzato tutti i record del calcio romano e non solo. Nella Lazio invece, il romano con più presenze risale a 70 anni fa. E incredibilmente non realizza nemmeno la metà delle presenze di Totti. Ma storicamente, sono così rari i romani nella Lazio oltre le 200 presenze? Che solo in tre hanno compiuto l'impresa. Ma se per raggiungere le presenze di Totti, dobbiamo sommare i primi tre laziali? Per eguagliarne i gol, non bastano tutti i romani che hanno giocato nella Lazio messi insieme. Pensa se bastano le foto al Colosseo, o le scritte autocelebrative sul colletto. Inutile fare gli ultras che tifano solo la maglia, quando tutti sanno che dentro la maglia non c'è mai nessuno. Saluti da La Lazio, spiegata ai Laziali. Yeah! Nati prima!